Siamo un ottimo gruppo, era importante perché venivamo da una sconfitta brutta in casa, quindi oggi era importante prima di tutto prestazione che è venuta e poi è venuto anche il risultato. Quindi siamo molto soddisfatti, però adesso da martedì dobbiamo già pensare a partita dopo, che è molto importante fare risultato con Udini in casa. Abbiamo visto un po' di partita, sono stati molto bravi, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e se giochiamo come oggi penso che possiamo vincere anche contro Udinese. Sono molto contento, avevo dato tutto quello che potevo perché era da tanto che non giocavo, quindi mi sono venuti i crampi e avevo chiesto subito cambio per rispetto anche per i compagni. Sono molto contento e devo continuare sempre così, io come sempre ci do sempre per questa squadra.